Dopo il fallimento della mia ultima missione ho pensato... Ehi! Un'occasione per poter rimediare! Ma non posso tornare indietro a mani vuote! Non di nuovo! Per farla breve, questa è la mia tomba! La scavo anche per voi? Questa cosa mi intristisce molto! Questa è la vita! Dopo, tutti hanno uno scopo e se non ce l'hai... Ciao ciao! I tuoi amici lo capiscono!